5, 4, 3, 2, 1, vai con un destra 3 meno corda, 10 e la zebra ritarda tanto, sinistra 3 sul ponte, 10 e sinistra 3 corda apre, 30 destra 3 più, tonda, sconnesso, apre, sinistra 5, in sinistra 4 corda, stai a sinistra per destra 4 più e stai a sinistra per sinistra 4 più lungo sconnesso, stai a sinistra per sinistra 4 lungo sconnesso, 50 e alla re, vai 50, 4 lungo sconnesso, e alla re il giallo ritarda a destra 3 più, tonda, apre, rotta, 30 e sinistra 4 meno corda, tonda, sconnessa, in destra 3 ritarda poco, chiude, destra 3 ritarda poco, chiude, 50 e al muro sinistra 4, tieni, 4 tieni, in destra 4, dosso, 30 e molta attenzione, sinistra 3 più sconnessa, molta attenzione in ritarda poco, destra 3, tonda, 30 e al traliccio, destra 3 più, corda, per sinistra 4 corda lascia 4? si, corda lascia, per sinistra 4 corda ancora lascia, 30 e alla zebra ritarda a sinistra 2, due tempi alla zebra ritarda a sinistra 2, due tempi 1 e 2, in destra 3 più 30 e destra 3 chiude destra 3 chiude questo in sinistra 4 lascia sinistra 4 lascia, 10 e ritarda a sinistra 4 in destra 5, 100 e al rail giallo sfiora a destra ritarda poco, sinistra 3 ritarda poco, sinistra 3 20 e al rail destra 3, tondo chiude in sinistra 3 destra 3, tondo chiude in sinistra 3 più in destra 3 lascia 50 e al rail ritarda a sinistra 3 diventa 4 ritarda a sinistra 3, diventa 4 in destra 4 lascia 30 e ritarda poco destra 4 meno lunga in sinistra 4 e subito e subito destra 3 subito destra 3 in sinistra 4 lunga apre per sinistra 3 più e in destra 3 più sinistra 3 più e in destra 3 più lascia bravo fermo lì ok, basta 3, 0, 6 fermo qui ma io ho fatto 3, 19 fermo qui fermo qui Grazie.